arriva il fischio da parte del direttore di gara rincorsa lunga per Antonica che carica il destro stampa sul palo ne amadio sul punto di battuta di questa rimessa la conclusione da parte di Mattia Antonica un gol meraviglioso è il pareggio della Tevere Remo arriva il fischio parte la rincorsa di Antonica potente, preciso la doppietta di Antonica 3 a 1 della Tevere Remo parte Antonica e sono 3 per il numero 10 4 a 2 della Tevere Remo